Una sorpresa per i giulianesi che amano l'enigmistica e i suoi criptici giochi. Nel gioco una gita a, nell'ultimo numero della settimana enigmistica, compaiono foto molto familiari ai giulianesi. La scoperta è stata subito svelata su Facebook da Eliseo Verde della libreria Claudio. Stamattina sfogliando abbiamo scoperto che finalmente Giuliano non solo per cronaca ma sul notone settimanale, settimana enigmistica, abbiamo scoperto questa uscita di questo gioco dell'enigmistica sul nostro territorio. Siamo rimasti un attimino stupiti ma anche contenti perché come ho appena anticipato finalmente Giuliano non esce solo come cronaca troviamo il santuario di Piazza Annunziata, il fantastico palazzo Palumbo, la chiesa di Santa Sofia, una stradina di Giuliano con una vecchia 500 dell'epoca e la fantastica chiesa della Madonna delle Grazie.